Gettini telespettatori, un cordiale saluto da Bruno Pizzola che vi parla dallo Stadio Olimpico per questa delicatissima sfida tra la Roma e Lecce, delicata non quanto per la forza dell'avversario che la Roma dovrà affrontare, ma per un fattore psicologico che porta i giallorossi in testa alla classifica in questi ultimi 180 minuti e quindi dovranno giocare con molta attenzione perché qualche volta queste partite vengono prese sotto gamba e poi ci possono essere delle sorprese che hanno dell'incredibile, la storia ce l'ha raccontato un sacco di volte, tipo Mantua-Inter del 67 dove l'Inter perde lo scudetto incredibilmente con quella sconfitta di Mantua per 1-0 e cade all'ultima, proprio negli ultimi 90 minuti avvantaggio della Juventus, Juventus che ne approfitterà un'altra volta qualche stagione dopo in quel drammatico finale del campionato 72-73 con il Milan che cade all'ultimo gradino a Verona dove perderà incredibilmente 5-3 e la Juventus si avvantaggerà ancora una volta di questa sconfitta. Vedremo se questa volta Roma-Lecce sarà una partita decisiva per i giallorossi che ricordiamo nella realtà persero in modo incredibile 3-2. Bene, adesso il virtuale offre alla formazione di Svengoren Eriksson la rivincita per questa gara veramente importante e vedremo quindi come andrà a finire. Bene, linea dunque al terreno di gioco, ci ritroveremo alla fine del primo tempo. E mentre Roma e Lecce stanno per entrare in campo diamo le formazioni. Roma si schiera con Tancredi, Oddi, Gerolin, Righetti, Nela, Boniec, Conti, Giannini, Ancelotti, Pruzzo e Graziani. Questo dunque è l'undici scelto da Svengoren Eriksson. Il Lecce risponde con Ciucci dichiara, Stefano dichiara, Miceli, Vanoli, Enzo Colombo, quindi Caosio, Nobile, Barbas, Pasquilli, Alberto dichiara. Questo dunque è l'undici della formazione leccese che si appresta a giocare questa gara veramente importante più per la Roma che non per il Lecce che ormai è già a retrocesso in Serie B. Le squadre stanno aspettando il fischio dell'arbitro, tutto è pronto, partiti. Roba che comincia con il pallone Giannini, l'appoggio per Boniec, avanza il Polacco, oltrepassata la linea che demarca il centro capo, attenzione, Pruzzo al limite, fermato, poi Miceli rilancia verso Alberto dichiara, da questi all'argentino Barbas, Pasquilli, Nobile, Lecce che attacca, ancora Pasquilli il tocco per Alberto dichiara, avanza Alberto dichiara, quindi l'argentino Barbas appoggia su Colombo, lo affronta Righetti, vedremo se Colombo tiene palla, poi il tocco ancora per Barbas, pallone dentro per Nobile, attenzione, sta rischiando grosso la Roma in questo inizio di partita, Vanoli, Vanoli si porta a spasso Ancelotti che poi perde le staffe, ferma in modo abbastanza brusco Vanoli, deve stare attento Carletto Ancelotti e non lasciarsi prendere dalla rabbia, è una partita questa delicatissima per i giallorossi, l'avversario è alla portata, quindi devono assolutamente giocare con calma, senza fretta alcuna, altrimenti si rischia il patatrac, ecco Ancelotti che ha qualcosa da dire, non è d'accordo, Franco Caosio alla battuta, palla dentro verso Pasquilli ma Righetti riesce ad allontanare, poi Roberto Pruzzo che rilancia l'azione dei giallorossi, Ciccio Graziani, l'appoggio su Conti, sbagliato il passaggio di ritorno, può ripartire Lecce che sembra avere le idee abbastanza chiare oggi qui all'Olimpico, Nobile, Enzo, il tocco per Barbas, intercettato dalla difesa romanista, però poi Barbas recupera il pallone, appoggio centrale verso il mediano Enzo da questi a Vanoli, attenzione, scende Vanoli, il tocco per Caosio, Caosio con maestria difende il pallone dall'attacco di Ancelotti, vediamo Caosio, prova la mette dentro, il colpo di testa di Dichiarama, l'arbitro ferma il gioco ed ha la punizione, Ancelotti è a secondo richiamo ed è veramente stare attento perché sta rischiando, infatti Caosio chiede il cartellino giallo per Ancelotti, ma non era un fallo poi così duro, lo abbiamo visto, inquadrato Ancelotti che è molto nervoso in questo inizio di gara, sul pallone Franco Caosio, palla dentro, prova a staccare Pasquilli senza successo, Barbas, Lecce che continua ad attaccare partite incredibili all'Olimpico, palla dentro, il colpo di testa di Alberto Dichiarama, il pallone termina sul fondo, non c'è deviazione, quindi Tancredi va alla rimessa, pallone che oltrepassa la linea di centrocampo, poi Pruzzo, attenzione Pruzzo, Pruzzo fermato da Miceli, ottima la partita del centrale leccese, Pasquilli nobile, Lecce che continua ad attaccare, Pasquilli, Alberto Dichiarama, Boniek per Graziani, da questi a Pruzzo, Roma troppo nervosa, forse c'è la paura della prestazione, la paura di vincere più che altro, ecco, intanto l'arbitro ha fermato il gioco per quest'azione fallosa nei confronti di Ciccio Graziani, non ci sta il giocatore del Lecce, calcio di punizione, alla battuta Giannini, la palla dentro verso Pruzzo, poi il tiro e il pallone viene, è stato Ancelotti viene deviato in calcio d'angolo, buona l'idea, poi però ci si è messo il difensore leccese a evitare che il pallone andasse in porta, Bruno Conti alla battuta del corner, attenzione, palla dentro, Graziani di testa, Pruzzo e c'è il gol di Pruzzo, Roma in vantaggio con il suo bomber Roberto Pruzzo, è stato tutto molto bello, direi io in altre circostanze, ma va detto anche qui, perché insomma colpo di testa di Graziani e quindi Pruzzo ha corretto in rete, sembrava tutto calcolato, la torre di Graziani e poi lo stacco vincente di Pruzzo, li vediamo, Graziani di testa e poi Pruzzo corregge in rete, la stoccata di Ciccio Graziani, ecco anche da questa bella inquadratura e Pruzzo con la collaborazione di Graziani, porta in vantaggio la Roma in un momento delicato e questo gol forse servirà ai giallorossi, anzi togliamo il forse, a dare attenzione intanto il Lecce che va all'attacco, ha rischiato grosso la Roma in questo frangente, deve dar morale questo gol, attenzione Pruzzo, Pruzzo dentro per Boniek che non arriva in tempo e la Roma c'è, ha rialzato la testa, adesso i giallorossi stanno giocando con più scioltezza, molto probabilmente il gol ha dato entusiasmo agli uomini di Ericsson che adesso controllano abbastanza agevolmente, devono però stare molto attenti in difesa perché questa Lecce ha dimostrato di poter arrivare dalle parti di Tancredi con relativa semplicità e qui Righetti e compagni devono veramente stare attenti in difesa, Boniek, Pruzzo, Conti, avanza bene la Roma, Ancelotti, il tocco per Giannini, attenzione, il tiro di Giannini, la parata di Ciucci, giallorossi più tranquilli in questo scorcio della gara, dopo un inizio veramente faticoso da parte degli uomini di Ericsson che hanno veramente fatto fatica a contenere i giallorossi, attenzione il pallone recuperato da oggi, dicevamo che hanno fatto fatica a contenere i giallorossi pugliesi, colori sociali identici a quelli della Roma e però la Roma commette qualche errore, ecco qui c'è il fuorigioco però devono assolutamente stare molto attenti nelle marcature d'accordo alla zona però, il difetto di questo tipo di gioco è che se sbagli i meccanismi ti va via l'uomo e buonanotte isolatori, comunque onore a Lecce che sta giocando una grande partita senza alcun timore reverenziale e sta mettendo in seria difficoltà la Roma, attenzione, palla dentro per Giannini, spazza via la difesa giallorossa del Lecce, attenzione, palla per Conti il tiro, pallone che viene intercettato, poi Boniek per Conti ancora al limite, cerca lo spazio Conti non lo trova, pressing della Roma, adesso prova di salire il Lecce, Lecce che cerca ovviamente di addormentare il ritmo, Pasquilli dichiara, attenzione, Causio, il tocco all'indietro non trova nessun compagno, Pasquilli arrivate in ritardo sul pallone quindi può ripartire la Roma, finisce il primo tempo, Roma 1, Lecce 0 al 23esimo, Roberto Pruzzo. Dunque una rete a 0 per la Roma, gol al 23esimo di Roberto Pruzzo che approfittava di un colpo di testa di Graziani per girare a rete e quindi portare vantaggi ai giallorossi, diciamo subito che la Roma ha giocato col freno a mano tirato, sembra quasi che sentisse la responsabilità di questa partita contro il Lecce e dunque vedremo se nel corso del secondo tempo riuscirà a scrollarsi di dosso questa paura. Diamo qualche dato, i pugliesi hanno avuto il 60% del possesso di palla, mentre la Roma il 40%, però ha fatto anche 3 tiri in porta contro un solo tiro dei Lecesi. Ottima la prestazione di Franco Causio per il Lecce. Bene, allora linea al terreno di gioco, noi ci ritroveremo alla fine. Rieccoci per questo secondo tempo, dunque Roma alla ricerca del secondo gol, il gol della tranquillità contro la formazione pugliese che comunque sta dando filo da torcere oggi ai ragazzi di Ericsson, ecco Vanoli che si spinge davanti il tocco per Pasquilli. Pasquilli la mette dentro ma non trova nessun compagno di squadra, quindi Righetti recupera il pallone e rilancia l'azione della Roma. Oddi in avanti per Boniek, Giannini cerca lo scambio con Boniek, lo trova adesso Graziani perde palla, riparte il Lecce, però recuperano ancora i romanisti con Gelolin che tocca per Righetti. Il passaggio di questi a Oddi da questi a Pruzzo, Conti, Boniek, roba che deve giocare con tranquillità, invece certe volte attenzione il pallone per Giannini, fermato da Enzo che porta fuori la palla, Pasquilli. Pasquilli avanza sulla tre quarti, lo affronta Giannini, il tocco per Causio, perso il pallone recupera Enzo, Lecce che punta deciso verso l'area di rigore romanista, Pruzzo, Graziani, il tocco per Ancelotti, questi da Gelolin, avanza il giocatore giallorosso della Roma, lo affronta Causio, Gelolin tiene palla, poi accentra su Ancelotti, questi per Conti il passaggio per Graziani al limite, Graziani il tiro, il pallone viene intercettato e mandato sul fondo e quindi calcio d'angolo in favore della Roma, la battuta si porta Conti, vediamo se anche questo calcio d'angolo potrà portare al gol alla Roma, attenzione il colpo di testa di Nela, la palla che esce di pochissimo, rivediamo da questa angolazione, il pallone che sfiora l'incrocio dei pali, Roma dunque vicinissima al raddoppio con questo calcio d'angolo, Roma che dovrebbe fare, quindi a questo punto cercare di giocare sulle fasce e andare al cross, perché quello che abbiamo visto ci dice che il tallone d'Achille del Lecce è proprio il traversone dalla fascia che mette in difficoltà i centrali pugliesi, Barbas, dichiara, Alberto dichiara, prova il passaggio non li riesce, quindi Pruzzo, Pruzzo fermato, l'arbitro dice che non c'è fallo, però adesso ferma il gioco, fallo su Ciccio Graziani e l'arbitro dà il cartellino giallo, potrebbe essere Bruno, vediamo un po', brutto fallo su Graziani, alla battuta Giannini, Alberto dichiara, da questi amiceli, Colombo prova a risalire il Lecce, Lecce che adesso però sta assumendo la pressione romanista, Roma che non vuole assolutamente sbagliare, quindi cerca il raddoppio per chiudere questa partita e pensare poi alla gara di domenica prossima contro il Como, attenzione Oddi, prova il cross, il pallone però esce fuori, dopo questa gara verrà trasmessa in serata, l'altra partitissima Juventus-Milan che si preannuncia veramente una gara scintillante tra la Juventus e i rossoneri, con due ex importanti nel Milan, Pietro Paolo Virdis e Paolino Rossi, Righetti, Nela, ormai manca poco al termine, Roma che sta gestendo questo finale con un buon possesso di palla, probabilmente hanno capito che, attenzione Giallini, dicevo che probabilmente la Roma ha capito che cosa è difficile segnare il secondo gol e allora preferisce avere il possesso palla, anche perché probabilmente non si vuole scoprire al contropiede del Lecce che si è dimostrato abbastanza pericolosa a riguardo, Boniek dentro per Giallini, Graziani, attenzione si gira Graziani, Pruzzo il tiro, la grandissima parata di Ciucci che evita il secondo gol, ecco rivediamo il bel pallone di Graziani che ha visto arrivare Pruzzo, gli cede il pallone dal limite, il bomber di Croce Fieschi prova la conclusione, c'è la grande parata del strebo difensore del Lecce che mette in calcio d'angolo, corner Graziani va verso Conti, quindi probabilmente si andrà al corner corto e di fatti Graziani prova il cross, palla dentro, allontanano i difensori del Lecce, l'arbitro intanto ha consultato il cronometro, vedremo se ci sarà recupero in questo finale, Gerolin, Righetti, da questi a Conti, Pruzzo, Giannini, attenzione Giannini, Giannini ha preferito toccare il pallone, avrebbe potuto fare qualche passo in più e tentare la conclusione, probabilmente ha avuto paura Giannini e quindi ha toccato il pallone verso il compagno più vicino, Lecce che termina in avanti questa partita, il lancio verso Di Chiara, il controllo, lo scambio, attenzione Di Chiara, dentro però c'è l'ottima chiusura di Gerolin che poi rischia un po', quindi voglia i carighetti e ormai siamo alla fine, è finita, la Roma batte il Lecce 1-0, gol di Pruzzo al ventitresimo minuto. Dunque al termine la partita finisce con la vittoria della Roma, il gol di Pruzzo è bastato per portare a casa questi preziosissimi due punti in chiave Scudetto e a 90 minuti dal termine di questo campionato Roma e Juventus continuano ad essere appaiati in testa alla classifica. A questo punto ci vorranno questi ultimi 90 minuti per sapere se una delle due vincerà il titolo oppure si dovrà ricorrere allo spareggio come nel 1964 tra l'Inter e Bologna, unico spareggio nella storia del campionato di calcio italiano. Bene, allora a questo punto la linea va alla pagina, noi vi aspettiamo questa sera con la domenica sportiva Graffiti, ospite della puntata, l'attaccante dell'Atalanta della nostra giornata 85-86, Fulvio Simonini. Bene, dall'Avatar di Bruno Pizzoli, tutto linea allo studio.